Era in sella la sua bici e stava percorrendo via Don Porporato quando, oltrepassando il dosso, è caduta a terra battendo la testa. È accaduto oggi, sabato 29 dicembre, intorno alle 15 a Salassa, di fronte al campo sportivo, ad un uomo sui 60 anni. Sul posto sono prontamente intervenuti, la Croce Rossa di Castellamonte, l'elicottero del 118, i carabiniani di Castellamonte e il sindaco di Salassa. L'uomo, subito soccorso dopo essere stato stabilizzato, è stato retrasportato all'ospedale CTO in gravi condizioni. Con sé non aveva documenti. Con ogni probabilità la caduta è stata causata da un malore. a 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 Grazie a tutti.